E iniziamo questo video con questo grafico, il grafico che vi ho mostrato nel video di lunedì e babam, tutto come previsto, anche in questo caso ragazzi, incredibile, anzi a dire la verità, nella giornata del 7, qua era questo qui, il giorno del rialzo, l'8 di gennaio, non pensavo che questo livello di resistenza che avevo indicato potesse in effetti poi andare a creare il fake breakout, invece così è stato anche ad opera del disastro che ha combinato la SEC, nella giornata di ieri eravamo tutti online connessi, io pubblicavo roba sul mio account di X, di Twitter ragazzi, vi lascio il link in descrizione, seguitemi anche su X e poi soprattutto abbiamo pubblicato una serie di news anche sul blog del disastro che ha combinato la SEC con il suo barra finto approvazione, approvazione sì, approvazione no, dell'ETF, un tweet che è uscito fuori sull'account X della SEC che però era fake, addirittura Gary Kessler poi è uscito fuori dicendo, vedete che la SEC è stata compromessa, l'account di Twitter è stato compromesso e non è vero che abbiamo approvato i bitcoin, intanto liquidazioni per 90 milioni di dollari a causa di questa questione qui, veramente imbarattante a dire la verità la questione, poi la SEC ha cancellato ovviamente il tweet però è rimasto il loro posto, il posto di SEC.gov X account was compromised, un posto non autorizzato è stato postato, la SEC non ha approvato il listing e il trading degli ETF spot bitcoin nella giornata di ieri, barzellette o manipolazioni, poi è successo un po' di tutto, alcuni che dicono l'hanno fatto apposta, me compreso ragazzi, io a dire la verità ho esperienza, ve l'ho raccontato già diverse volte, la stessa cosa vi ho detto quando la questione di Cointelegraph aveva pubblicato la stesso tipo di news, che poi è stato un fake che però aveva indicato la strada ragazzi, e sì perché poi a noi quello che interessa è guardare fra le righe i risultati di questo test, perché di un test si è trattato con tanto di manipolazione, cioè cercare di capire che cosa sarebbe successo sui mercati, bitcoin schizza alle stelle, ma pochissimo a dire la verità, non alle stelle, ve lo faccio vedere sul grafico a 15 minuti così lo guardiamo un po' meglio, giusto per capire, ecco il risultato, tweet pubblicato fake, bam, raggiungimento dei 48 e tweet ripubblicato che era fake, il tweet dell'altro fake, crollato addirittura raggiungendo poi il livello più basso di 44.500 che però è stato breccato nella giornata di oggi, perché poi questo tipo di costrutti vanno a innescare un'inversione anche a livello tecnico e quindi si è andato a innescare questa cosa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, io c'ero, lo potremmo dire perché alla fine è questo il vero significato di questi video, ragazzi, noi c'eravamo, eravamo qui e appartenevamo a questo momento storico quando tutto questo è arrivato, le manipolazioni adoperate da un organo, diciamo, istituzionale come la SEC, che dovrebbe addirittura andare a tutelare tutti quanti gli investitori delle eventuali manipolazioni, è successo poi un po' di tutto, ma anche una barzelletta che io ieri poi a un certo punto avevo anche le lacrime, vi faccio vedere questo posto sempre su X, ragazzi, la security, i avvocati della SEC che indagheranno su loro stessi, sulla SEC che deve indagare su se stessa per la manipolazione del mercato, cioè siamo proprio nella barzelletta, se questo è l'organo di regolamentazione istituzionale degli Stati Uniti d'America, pensate un po' quelli locali di altri paesi e evito di fare nomi perché io ne ho viste di tutti i colori, dovete fidare, insomma, da certi punti di vista, per l'esperienza ne ho visti di tutti i colori. Allora, solitamente come si interpretano questi segnali? Uno, manipolazione, quindi qualcuno ha fatto dei soldi, qualche milione, se non sbaglio è uscito fuori 3 milioni ad opera di un pump and dump organizzato ad hoc, seconda punta, vanno interpretate andando a comprendere come il mercato si sarebbe mosso, e il mercato ha mostrato due segnali, il primo lo vediamo tra poco, e poi il secondo segnale che è importantissimo ve lo mostro alla fine. Ma prima di andare avanti vi dico anche un'altra cosa, ragazzi, alle 21.45 andiamo in live, qui sempre sul mio canale YouTube, perché se ancora non sarà approvato l'ETF, non avremo notizie da parte l'ESEC, attendiamo la chiusura dei mercati, insieme alle 22, la chiusura dei mercati americani e andiamo insomma avanti per un pochino per vedere se succede qualcosina. Poi dovremmo comunque staccare, io credo che comunque qualche news si avrà tra le 10 e le 11 della giornata di oggi, a prescindere se non arriva prima. Se arriva prima magari facciamo una breve live quando arriva per vedere un po' quello che è successo. In ogni caso connessi anche, in questo caso, doppio appuntamento oggi, questo video recap generale e poi invece l'attesa di tutto quello che sta succedendo, va bene? Sempre sul mio canale YouTube, quindi basta aspettare la notifica, vi arriva alle 10 meno un quarto, è una giornata di oggi. Allora andiamo con calma, partendo prima dalla questione legata al grafico che vi ho presentato nel video di lunedì per prepararvi a questa news che ovviamente non è che potevo sapere che la SEC avrebbe manipolato se stessa, insomma è creato questa cosa, ma guardate ancora una volta quando si fanno analisi e si fanno bene le analisi perché queste cose vengono confermate poi dalle news, succede una roba che sa di magico, lo so, io non ci credo ovviamente, però tant'è ragazzi che le analisi di questo tipo sono poi sempre confermate in qualche modo, non è sempre ovviamente così perché parliamo di mondo aleatorio però la probabilità è sempre a favore di chi fa questo tipo di analisi, no? A noi interessa poi la probabilità. Allora è successo esattamente quello che vi avevo detto, non precisamente, non proprio esattamente perché questo breakout ha un po' diciamo inquinato le acque, poi invece c'è stato lo sciacquone, il mancato superamento come vi spiegavo nel video di lunedì, a proposito se qualcuno di voi non ha visto il video di lunedì vi lascio il link sulla mia testa e andatelo a vedere ragazzi come è rappresentato proprio questo grafico, un video che ha un'immivita abbastanza breve perché finiva praticamente nell'arco di pochi giorni, ma l'ho fatto per mettervi nelle condizioni di poter magari sapere quello che sarebbe successo se avessimo assistito ad una cosa di questo tipo, proprio quindi alla questione del fake breakout che poi veniva rientrato. Allora, in realtà abbiamo questa struttura che ci indica intanto che qui c'è un fake break, il livello che vi indicavo di resistenza è importante ed ha funzionato alla grande, tra le altre cose deriva anche da un altro grafico che vi avevo mostrato e che abbiamo visto insieme in un altro video, nell'altro video che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè il grafico sul annuale dove abbiamo indicato tutti quelli che sono i livelli di resistenza per l'anno 2024 e anche di supporto ed è questo il livello di resistenza ovviamente che si cerca di battere perché è importantissimo 46 e 7 e poi l'aria che vi spiegavo appunto in questa zona qui fino a 48 e qualcosa. Tra le altre cose, nella giornata di ieri è stato toccato su prezzi bit stamp il massimo di 47 e 8 e oggi siamo crollati a un minimo di 44 e 3. C'è grande trepitazione da un punto di vista tecnico però oltre alla questione che vi spiegavo nel video di lunedì, cioè queste manipolazioni che possono avvenire in cocaimitanza con queste questioni qui, c'è anche un'altra questione da andare a tirar fuori, cioè il trend non è cambiato ragazzi, siamo comunque a prescindere da queste manipolazioni su questo tipo di retta. È un canale ascendente che però non è bellissimo perché un canale ascendente fatto in questo modo è rischioso da una serie di punti di vista ve ne ho già parlato più volte nei vari video della settimana precedente andatevi a riprendere se volete approfondire quei video nella settimana scorsa e però al momento noi dobbiamo stare con medie mobili diciamo già indicate a favore di trend. Il favore di trend è per quanto faccia su e giù in preda al forte squilibrio dovuto a questa news che deve uscire e di cui diciamo si ha una sorta di atteggiamento quasi da barzelletta con queste fake news della SEC. Tra l'altro ho pubblicato anche un altro articolo sulle colpe, secondo me, della SEC. Andatelo a leggere ragazzi sul blog di Trading On ma al di là di questa questione qui a livello tecnico di trend siamo sempre in un laterale rialzista quindi resta il sostanziale long. per quanto riguarda questa fase. Poi la problematica da un punto di vista tecnico avverrebbe sull'avvicinamento di Bitcoin a questo canale discendente che già farlo nella giornata di oggi non lo so. Ovvio che qui siamo nella giornata di scadenza io vi ho tolto adesso il segnalatore bianco per farvi vedere la candela altrimenti non la vedevamo. È una giornata importantissima ma da domani in poi le cose torneranno a essere un po' più classiche da certi punti di vista quindi meno manipolate da questi tipi di atteggiamenti. Al di là di questa questione qui c'è stato un altro importantissimo atteggiamento che è avvenuto e cioè quello di Ethereum ragazzi che a differenza a differenza di Bitcoin e TH quello che ha fatto è nella diciamo situazione di non riesco ad aprire sto diciamo solo qui ragazzi volevo farvi vedere appunto l'atteggiamento di Ethereum e quindi mi serviva un grafico più più breve e sono andato a recuperarlo qui. Allora vi faccio capire la questione legata a Ethereum qui è avvenuto l'evento manipolatorio della SEC quindi l'opposto ragazzi di Bitcoin qui Bitcoin è salito e poi crollato mentre ETH è schizzato alle stelle così perché per quale motivo cosa è successo e cosa è cambiato qui allora questo è l'altro evento l'altro fattore tant'è vero che poi se andiamo a vedere anche il grafico a questione daily ETH che stava in fase di chiusura di un ciclo trimestrale ve ne avevo già parlato nei video precedenti potrebbe aver innescato una fase di risalita e soprattutto se brecca questo livello di resistenza dove in questo momento è arrivato a mani libere perché oltre a fare nuovi massimi può andare tranquillamente a fare nuove a testare diciamo sia il livello dei 2550 che è il primo livello di resistenza ma poi se dovesse entrare all'interno di questa struttura di pricing sarebbe ancora meglio perché avrebbe tanto tanto spazio di manovra in quanto ETH è cappato da questo livello di resistenza ma poi successivamente possiamo arrivare tranquillamente intorno ai 3000 dollari questo è il livello invece di resistenza attuale su Ethereum e da qui in poi vedete c'è una ampia zona di oscillazione quindi dovesse percare questo livello entra all'interno di questa ampia zona di oscillazione ma soprattutto la mia perplessità è andata anche alla questione del perché dopo l'annuncio di un'approvazione fake di Bitcoin ETH esplode a rialzo ve ne avevo già parlato andrà confermata è solo un'idea è un'ipotesi al momento però ci sta questa ipotesi dovuta anche a una serie di questioni cicliche tecniche legate all'andamento di questo grafico in particolare che è il grafico di ETH BTC tra le altre cose è un grafico in cui c'è una attesa almeno da parte da parte mia ragazzi da un po' di tempo della chiusura di un quadriennale ciclico imponente cioè un ciclo molto importante che in effetti ha superato i livelli di temporali attesi ma bisogna monitorarlo perché l'inizio di un nuovo quadriennale indicherebbe anche uno spostamento verso la cosiddetta fase da Bitcoin a dal season poi nei prossimi mesi ma perché la questione quindi al momento una reazione di un giorno è insignificante però una reazione c'è stata ragazzi e quindi queste reazioni vanno monitorate di tanto che questo trend non inverte quindi al momento è solo una reazione ma se dovesse invertire questo trend in particolar modo facendo salire il cambio THBTC al di sopra di questa trend line discendente questo è un grafico tra l'altro settimanale quindi di medio lungo periodo allora cambierebbero tante cose ma ne parliamo magari poi dopo se insomma la questione ETF viene accantonata intanto concentriamo su quello perché ETH dovrebbe performare meglio di Bitcoin nel momento in cui l'ETF Bitcoin dovrebbe essere approvato perché ETH sarebbe il secondo ETF presentato e finora non ha avuto una grande espluà perché tutte le mani forti si sono concentrati sulla questione Bitcoin se per caso l'ETF Bitcoin dovesse essere confermato secondo me il maggiore beneficiario di questa news poi sarebbe proprio ETH perché ETH sarebbe il secondo in coda per vedere approvato un altro ETF spot quindi tutta la manfrina che noi abbiamo visto sulla questione Bitcoin si sposterebbe poi alla questione Ethereum perché io non penso proprio che gli emittenti dell'ETF Bitcoin si fermeranno esclusivamente ad avere solo Bitcoin ma siccome ragionano in termini speculativi e non certo in termini di tecnologie mi piace non mi piace non sono queste diciamo idee di natura filosofica che guidano gli speculatori di mercato e chi fa le emissioni di ETF bensì la vendibilità di un prodotto oppure diciamo il fatto che possano speculare su quel prodotto potrebbero concentrarsi appunto proprio su Ethereum come la regina delle cripto la seconda cripto papabile per fare un ETF spot e una volta che magari la SEC ha dato le vie di regolamentazione il quadro generale di regolamentazione sarebbe anche molto facile andare a proporre un ETF su un'altra cripto essendoci già un dato di fondo e rispettando appunto quelle che sono delle normative ben precise perciò l'atteggiamento di ieri di Ethereum che è stato proprio quello del pump ad approvazione dell'ETF potrebbe essere correlato potrebbe perché ragazzi perché ci sono mille questioni dietro questo è un concetto è una mia opinione vi ripeto a livello oggettivo abbiamo una reazione da un punto di vista di prezzo di ETH notevole oggi rispetto anche a Bitcoin sembra che ci sia uno spostamento da Bitcoin e Ethereum io questo è quello che sembra vedersi nei numeri pre-approvazione come se si stessero spostando ma questa conferma l'avremo solo esclusivamente se ETF Bitcoin sarà confermato e se questo spostamento aumenterà ancora di più proprio all'eventuale conferma dell'ETF di Bitcoin a quel punto avremo una conferma di questo punto che vi sto dicendo mille giochi di parole il discorso detto questo ragazzi è interessante andrà a vedere questa cosa qui ma vi ripeto la manipolazione attuale potrebbe essere stata semplicemente l'hacker che ha spostato i BTC poi in ETH per andare eventualmente a fare altre operazioni potrebbe essere qualsiasi cosa però al momento la soluzione più consona è questa qui quella più comune quella più standard quella più probabile che ci sia stato uno spostamento verso ETH perché molti magari sanno che c'è già l'approvazione quasi andata diciamo con diciamo estrema fiducia e si stanno già posizionando su Ethereum anche perché anche perché non è soltanto una questione della giornata di ieri ma nella giornata di oggi abbiamo un ETH anche forte per esempio con un più 4% con una Bitcoin che invece sta stentando comunque un po' diciamo ha difficoltà ed effetti ragazzi poi Ethereum sta proprio cercando di breccare questo livello allora occhi puntati quindi su questa crypto noi ci vediamo alle 21.45 se ancora la SEC non ha fatto nulla e quindi diciamo cerchiamo di capire queste cose questa è l'idea generale vediamo se sarà confermata un'opinione vi ripeto non un dato oggettivo statistico però è una view generale del mercato un po' da opinionista gossip cosa ne pensate anche voi scrivetemelo nei commenti pollicioni in su per questa super giornata storica di Bitcoin vai che si ce la fa come diciamo ci dicevamo una volta e se riusciremo a fare questa cosa vedremo poi domani come il mondo sarà cambiato ma soprattutto faremo una cosa dormiremo perché finalmente questa news ce la siamo levata dalle balle ok ve l'ho detto tanto siamo a fine video dalle balle perché non ce la facciamo più ciao ciao